località oasi di baggero o baggero lui e stefano grazie internet ho trovato compagnia per oggi grazie internet come se non ci conoscesse e mandami un messaggio infame di merda grazie instagram ma faccio fin da che ho tanti follower ah i suoi follower a anche le tartarughe ma che pesci ci sono? vabbè ma le tartarughe le vado in meno rispetto ai pesci un bel scherì le tartarughe non le trovo falla lì come nuova il momento cultura è una storia molto significativa per la comprensione del territorio dell'alta bianza negli ultimi secoli no quello è un po' bergamasco eh non lo so fare il bianzolo fallo tu il bianzolo sai cosa invito io? che non avete un cazzo avete posti bellissimi però questo non è un cazzo questo posto però lo sapete valutare di valutare in qualche modo e tenendo conto noi abbiamo i templi patrimoni dell'unesco pieni di spazzature noi li valorizziamo le cose bravo bravo anche la merda se sei come manzoni diventa cioccolato merda d'artista merda d'artista serena per rilassarsi per tornare alla vita frenetica lavorativa che tu non fai neanche io perché siamo insegnanti ti capi? facciamo un cazzo dai non dire parolacce questo è il terapolo pubblico che salutiamo cari amici followers buonasera bene 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 ciao 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 ciao